La sanità della Regione Marche sta cambiando per essere più vicina a tutti i cittadini garantire le giuste cure e ridurre i tempi di attesa. Dopo la prima visita sarà il tuo medico di base a stabilire le prestazioni sanitarie di cui hai bisogno nei tempi giusti compilando la nuova ricetta elettronica. È un vero documento che contiene tutte le informazioni che garantiscono in base alla tua condizione clinica il tempo di attesa giusto per te. Stabiliti i tempi e le cure il medico ti consegnerà un promemoria dell'impegnativa con tutte le informazioni per prenotare gli esami e le visite specialistiche di cui hai bisogno. Chiamando il numero verde del CUP regionale o recandoti agli sportelli di prenotazione sul territorio. Un'altra utile novità per ridurre i tempi di attesa è il servizio di Recall. Qualche giorno prima riceverai una telefonata che ti ricorderà il tuo appuntamento. Se non puoi presentarti ricordati di chiamare il CUP e di sdire la tua prenotazione. Un buon funzionamento del sistema sanitario dipende anche da te.